E' bello vedere Cecilia e Ignazio giocare anche da soli a casa e scherzare e sorridere e stare bene assieme. Direttamente da Buenos Aires abbiamo una concorrente simpatica devo dire, una concorrente che si è distinta tra i suoi talenti artistici, oggi abbiamo Cecilia Rodriguez che farà un'esibizione di scoreggio. No, bocciata. C'è da dire una cosa, Ignazio e Cecilia stanno veramente bene assieme, sia quando lavorano che vanno in vacanza e stanno soli a casa.